Amo Ditemi se si vede tutto, se si sente bene, volumi, parlate un poco Io tolgo la cattura di OBS Ditemi se si sente tutto bilanciato, parlate anche voi due Lala, basta che c'è con l'occhio, però Cosa? Gli c'è con l'occhio e basta? Cambia scena, vai in pre-live Sì, è prima Lì, ecco, li sento benissimo Ok, perfetto Ok, sperando che ora non faccia versi, perché sennò appunto si cambierà gioco e via A sto punto, per l'ultima mezz'ora Intanto mi sono scordato di cercare Quindi cercare un URGG, adesso è anche scalabile a live Bella, incredibile Sono contento, dai Che storie, ragazzi Nella sfiga, vedi, un po' di culo ogni tanto Che palle Allora Intanto, proverei a fare una cosa Mi incasino tutto Comunque, vai, fai incazzare Non hanno ancora messo il delfino in sto gioco È vero, ancora devo mettere il delfino Spero tanto non l'abbandoni Lo più che altro Sarebbe veramente un giramento di cazzo incredibile Più che altro non sta giocando nessuno Oh no, proprio adesso che avevamo smesso di avere problemi Proprio adesso che ho detto che speravo non l'abbandonassi La ricompensa del coltello che cos'ha? Cos'è la ricompensa del coltello? Ah L'overboard Sembra un coltello, in realtà è un hoverboard Ma dove lo vedi? Adesso È la tua mount, Marco No, è che si chiama il coltello Eh, devi andare su officina Mi sembra Qua Unicorji non funziona Allora lo abbandoniamo È vero, è vero Anzi Ah, Unicorji adesso sta funzionando Via via voi bimbi Tutti via Tutta casa Che pazzesco Arrivano quelli forti Sì Arrivano questi che ce l'ho un po' in tutto Via via I primini Cosa? No, dico Abbiamo vinto nonostante i primini ballerini È vero Ma perché io vedevo tutto perfettamente e ho carriato No, ragazzi, c'è l'ammiraglio fuggitora contro di noi E comunque penso sia la prima situazione in cui Alice può streammare noi no Lol, vedete Io mi sono preparata per anni a questo momento Arriverà quel giorno Arriverà quel giorno Mi farò trovare pronta Ok, c'è la consegna dei piselli Posso risare il ninja, così lo capisco meglio Sì, sì Io non so se usare il sapore facile oppure il serpentone Ah, io abbassa un po' il volume di gioco perché è effettivamente alto Ok Ditemi che si vede fluido, ragazzi Vi provo a usare la strega dall'inizio Qui mi segna 30 fps, quindi teoricamente Io lo sto vedendo fluidissimo Ok Anche a me ho un botto fluido, guardami come giro tutto Ma ragazzi, ma sono tutto storto, ho i piedi che si incrociano Bellissimo No ragazzi, ho fatto una caciottina al miele Si vede benissimo Si vede la colpa mia, scusa Allora, Y un curo Ah, stai provando un altro, ok Sì, sì Li mettiti nella mount E B cosa faccio? Non ne ho la minima idea Ok, adesso ha tirato una sfera immata Però adesso dovrebbe essersi stabilizzato Dobbiamo andare al centro, al centro Vedete? Beh, lei ne ho una, eh Lui come cammino? Sì, no, in basso ha segnato proprio la vita No, 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 dico dove stanno nella mappa Dove si vedono Sono i puntini arancioni Merda Wow, 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 wow E poi li vedi anche addosso a loro Ecco, tipo adesso nei fight, ditemi se si vede tutto bene Quanto sono forti, oh? Non va pazzi Adesso ho sfrimmato No, no, io riprendo No, no, io riprendo quanti zelaio In generale dovrebbe vedersi bene Cioè, ti do lo scudo Ma non dura niente lo scudo Piuttosto tira fuori Ma no, c'è un coso Mi mette un coso per terra Che è quello qua Eh, sì, ma ti do anche uno scudo Credo Sì, no, di una tabinità Lo scudo Ok, perfetto, Artem Ti ogni tanto dai quegli Cali di frame Micro, sì Ragazzi sono Contro McCree Come cazzo si chiama sto qua? Perché McCree è un problema È McCree con le spade, guardalo Arrivo, arrivo, arrivo C'entra niente Oh, è pazzi Guardalo È chiaramente un cacquero da cowboy Ti curo, ti curo, ti curo Vabbè Questi che vanno a consegnare, occhio Sì, lo faccio Non abbiamo niente Non abbiamo niente Puoi andare su A a consegnare, però Eh, non abbiamo niente Ah, gli è dietro Girete, vicino a te Merda Uh, che incertezza è nei frame C'è il serpente Eh, infatti, infatti Matteo, non migliorare Eh, lo so Perché ero maledetto Quindi prendevo danni aggiunti Sì, c'è Lo consegnato Eh, vabbè Eh, Dio Eh, vaffanculo, allora Sembra tenere Ma non muoiono Oh Ragazzi, ho preso un botto di celle Via Eh, non farti ammazzare Eh, non so come fare a non farmi ammazzare A dirtelo Eh, ti sto curando Ti sto rifullando Ok, grazie Però stanno ammazzando me Questa modalità non c'è verso No, la facciamo la game No, sta modalità è stradificile, ragazzi Sono stordito Eh, no, mi hanno stordito Mi hanno stordito Ma se a me far dire che il Samuano Sì, il mio Abbe un gusto Sì, c'ha le gambine Ma che sterebbe il Samuano? Ah, lui Ah, inutile Sì Allora Arrivo Ma sta modalità è troppo difficile Sì, è difficilissimo Ah, più che altro io non so Minimamente dove si trovano le celle Deve dire la mappa, Marco Sono i puntini arancioni I puntini arancioni, ok Esponono all'inizio Ah, più che altro io non so cose che fanno L'abilità delle persone Eh Quello manchio Poi stanno continuando ad andare da solo Che motivo per più Marco, 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 Marco Sì, no Eh, dato ci sono dietro io Ma due P4 Non so se Questa è mia È mia, è mia Stronzo Madonna Io ti ammazzo Eh, vabbè Ma tanto io non faccio danno Aia, aia L'ho tolta Fanculo Shit Ragà, dove siete? Accanto a te Io sono morta Ok Ok Eh, ne abbiamo tre da consegnare Che cazzo Vabbè Vado a consegnarle Quell'altro ha consegnato Uh, vuoto di celle Uh, vai, prendi Dove che si consegna? Copritemi però, ragazzi Sta arrivando? Che se mi colpiscono Non posso consegnare Vado a consegnare Strono anche io Guarda là Vedi che ti do lo scudo Sì, sì Con Y non ti do lo scudo No, sta multando No, 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 no Non riesco a consegnare niente Fattibile Ragazzi c'è anche sua Sì, Alice Prendi quella cura lì Eh, sì Eh, vabbè Mi hanno scettato prima Ti ho dato lo scudo E poi mi hanno scettato Che brutti stronzi Da dove? Ci sei? Mi mettiamo? Eh, mi fa poco Ma vaffanculo Ragazzi, sto per piangere Sto per piangere fortissimo È morto, è morto questa Oh no, è morto Quanto è rotto, scusa Oh, quanto? Mi sta curando, mi sta curando Mi preoccupate Di 10 a 5 euro? Mi ha tricciatato Cos'è che ha scritto? Dove? Ah, l'alert del centone Guarda Ne abbiamo parlato oggi con Luca Non abbiamo trovato per ora nulla Che ci Che ci piacesse Mamma mia, Didier, grazie Oh, tantissimo Provo a fare doppio tank Dio santissimo Gesù Bambino E gli angeli Tutti quanti Fanno kill Spawn kill Fanno spawn kill Fanno spawn kill Beh, Didier L'alert c'è comunque Quello va Io entro Mi curo Vado Che scattone Ok Cello Dietro qua E va in culo Allora Come si consegna? Eh, deve sbloccarsi Deve stare lì Fermo Non è attivo la zona Sì, 23 secondi Vedo il timer in alto In mezzo Ok C'è il signore Sbagliato a vita Eh, vabbè Loro ne hanno 14 da consegnare Hanno vinto Se consegnano hanno vinto Ragazzi Ci sono Dado, dado, dado Arrivò Uff Aia Ma fuck Non Non fateli andare a C Non fateli andare a C Mi raccomando Datemi una mano Arrivo Ho ucciso uno Marco, facci, facci, facci Tenendo invincibile Dammi Vado a consegnare, dici? No, no Dove andare su lui Dice uno Questa modalità fa così schifo È vero No No Come ho fatto a farmi fuori? È invincibile, è invincibile Ah, ecco perché No, dado, me l'hai tolto Eh, scusami Non mirava lui Madò Fa Maura Scusami Eh, stavo scontando Stavo scontando Eh, vabbè Mi sono morto Arrivo Ho perso un sacco di celle Sì, sì Era in FK Sera No, sono qua Sì, no Eri andata In FK Ma io perché Dove la gente scomparire? Fa l'anzana che dice Non fare domande Ragazzi Continuare a piano Un cazzo di avviso A schermo Che mi blocca il gioco Guarda L'avessimo registrato I tempi Quando Didier 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 cosa è impazzito? Cento euro di nuovo Didier Didier smettila Didier ma grazie Ma che cazzo fai? Sono molto deluso per l'alert Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Didier Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Uccidete serpente Fai un ma allora e ma sei matto insieme. Così, come alert speciale giusto per Didier. Ma sei matto! Ma anche il ma allora... Ma no, l'avevo doppio tank e... Sì. Ragazzi, ho delle sole da consegnare. Ma perché aveva uscito il serpente? Prima non le ha droppate. Io Didier non so che cazzo... Io bestemmio adesso, ragazzi, posso bestemmiare, come alert, io che bestemmio. Dove è finito, mi scomparto, ma scusami. Ma che vuol dire? Ma anche lì tanto devi da scomparire. Bello. Ragazzi, devo rilasciare questo? Partiamo. Partiamo. Chiedetemi insomma. Didier dona perché vuole un porcone in live altrimenti non si spiega. Eh, ma guarda che so sulla giusta strada di Stier per il porcone in live. Non è che sta da solo là contro tutti, Matteo? Eh, io perché cercavo l'imperigli di... Di consegnare. Eh, vado in bio, vado in bio. Chiedetemi sarà dato. Run, anche un mallora sarebbe ben accetto. Però ho urlato, eh, di più di più. Urlato. È dedicato a Didier, ovviamente. Sto consegnando, sto consegnando. Ho preso le celle. Vado su C, occhio. MALLORA, Didier! Ho preso delle celle. Ho consegnato, ho consegnato. Spero tu sia almeno in parte soddisfatto, Didier. Didier, cioè, soltanto per te. Ma, puoi accettarlo questo VIP? Porca miseria. Ma io... Vabbè, Didier... Nooo, ho usato! Mi sarei per dattero il VIP. Eh, infatti. Cosa mi sono... Nooo! Come? Fati in bagno. Eh, Didier, la rant ha fatto due alert in diretta. Didier è impazzito, grazie mille. Cosa? Per la donazione di prima? Perché non ce l'ho sentita della gava. Ah, ok. Dovevi rifare anche la reazione sorpresa. Oh mio Dio, Didier! Non ci credo! Ran, Ran, vieni a rifarle entrambe. Perché Didier non ha sentito. Arrivano i vicini di Ran. Aspetta, non ho più la voce, non ce la posso fare. Aspetta, aspetta. Ma allora! Primo. Seconda. Aspetta, aspetta. Aspetta, no. Didier è impazzito. Di diaframma, eh. Di diaframma. Nora. Si va. Oh, signora, la mia voce. Didier! Ma sei matto! Ok. Ok, non farlo più. Stavo entrando... Stavo entrando in stanza dopo che sono andata in bagno e ho sentito la randa delle cuffie poggiate sulla stanza. Chiaramente, eh. Didier, io spero tantissimo che ti abbia sentito adesso. Come se ce l'avessi a camo. Ok. Penso che semplicemente affacciandosi lo sentirebbe comunque. Volevi gli alert e te l'ha fatti in live. E sono sulla buona strada per tirare un porcone come alert, in onore di run, giustamente. No, dai. No, direi di no. Bene. Didier, ma grazie a te, ma tu sei fatto. Ma grazie a te, Didier. Didier. Bene. Cosa ringrazio? Ma tu sei un fuori di testa. Tu sei mattissimo, te lo dico. Sei un... Sì. Caro mattissimo. Bene, Vito, vi lascio giocare tra qui. Ciao. Questa giocata. Ciao. Ciao, Ron. Ciao, Ron. Ciao, Ron. Poverina senza cola. Il portone lascia, allora. Il portone. Sì, sì. Varemmo. Comunque, ragazzi, per la chat, quello che vi viene in mente, eh. Cioè, agli febricciano due euro su stile. Lo so. Un po' meno se lo volete. Eh sì, ho visto. Però ho visto anche nel pass. È sul pass? Lo so, però lo prendo due euro. Eh, io quasi quasi me lo prendo quel prezzo. È tipo un euro ottanta. Sì. Quasi quasi me lo prendo. Pippo, ti sei persato, non sei ne pazza di Didier. Pippo, Didier ha impazzito di nuovo, ha donato altri 100 euro, dopo averne donati 100 oggi pomeriggio. Sì. Sì, veramente. Io non ho parole. No, sai nuovo quanto fuggito ora? Ah, devo... Ok. Ah, ha tolto... Faccio io, faccio io. Ok. Ha tolto il limite di uno alive, Luca. Bravissimo. DT e io guarda, non so. DT, tra l'altro, come va la testa? Tutti mal di testati oggi, vedo. Eh, sì. Ma guarda, anche io prima avevo un bel inizio di mal di testa. Vabbè, fortuna non si è sviluppato. Io stavo bene. Marco, te lo faccio venire io, mal di testa. Pisellate sono i tempi. O io metto i cianni. È sempre lì. Ma sta venendo peggio, in realtà. Ah. Uiiiiii. Però, grazie alla donazione di DT. Adesso stai meglio. Esatto. Prima soffrivo di mal di testa. Poi è arrivato DT. Adesso sono querita. Adesso sono querita. Adesso sono querita. Fatti prescrivere dal tuo medico un DT. No, amici. Credo sarà stanotte domani, ma... Eh... Per dormire due pipo, prenditi qualcosa. 3... 2... 1... Cosa bisogna fare qua? Conquistare. Oh, bene, qua siamo forti, andiamo. L'ha detto. L'ha detto. Ci ho fuggito di nuovo, ragazzi! Sì, ma guarda, non è per gli stessi secondo me. Sì. Sì, sì, sono gli stessi. Vedo dal nome. C'era quella cattiva? O no, i frame, ok. No, la signora cattiva, no! Abiettivi, obiettivi, b! B 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 D D D. Mmm! Beh vado scomparire ogni tanto! Strethey! Ok, è nostro. Sì! Dovono support mh dietro! Sì. Vado a farmi il support Sì, fatemi il support Occhio, non lasciate il punto perché No, 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 ragazzi Loro ci scherzano, vorrei evitare Sì, no, ma non Loki Perché dopo davvero te ritrovi come me con lo stomaco Lì ci riesce a colarmi? Sì Porca troia, ma esploso Prendi qualcos'altro, dopo qualsiasi altro Anche Natà Capirino, per dire Sono morto Scusami, io l'ho messo da lato, però Oddio, ma che sono sti razzi? Non lo so Qualcuno che spamma la ulti, credo No, penso sia la mappa Ah, sì, è vero Datemi la mano, ragazzi Sto torrando Eh, l'ho preso loro Eh, non so in Dio quanto possiamo fare No, arrivo, 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 che ti curo Morto Grazie, 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 grazie Sei refullato Non sono refullato, però va bene Ok, punto C Va bene, va bene, va bene Perché mi ha interrotto Sono addormentato C è qua giù, dove sto andando io Destro Qui di Dio la fase 3 è arrivata in anticipo per noi Proprio senza Dio, chiede pure un amico Dai che la T5500 Ce l'abbiamo dietro, eh Ce l'abbiamo dietro Dietro dietro, giratemi, giratemi Qualcuno va da B, eh Qualcuno va da B, ragazzi Eh, vabbè, intanto prendiamo questo, dai L'abbiamo preso, questo Mi stanno ammattando Vado a B Merlo Sto andando a B Sto andando a B da solo, ragazzi Voi tenete A in qualche modo Sto andando a B Sto andando a B Preso B Ci sono dato, faitelo Faitelo Do cazzo è finita? È scomparsa È scomparsa dietro, dietro, dietro Assolutamente no Cosa? Social Che la T5500 Se ne prendete di 20.000 Beh, sì Lo so che la T5500 Non l'ho mai fatto, sono a porte Sì, il serpente è abbastanza cortino Ma noi sono 1v2, eh Capiscono me C'è un ninja qua, eh Che fa degli scattoni incredibili perché è potente Ha il protection dietro Fuck Io vorrei una mano su... Sta arrivando, sta arrivando Sta arrivando Ho detto che è mio, B Bastarda Oh, sono un vantaggio sti qua, eh Eh sì, ma perché... B e A No, tutte e tre Targettano me Sta arrivando dato Sì, ne hai uno dietro, eh Eh Ok Ci sono dato Faiteli, faiteli Vivi in 500, se ce l'hai Sì, perfetto Non buco la stomaca come l'occhio, eh Esatto Però un'alternativa morta come più serpente No, ragazzi quella dietro... Quella dietro targetta me Eh, ma non posso farci niente Eh, non volevo usare da ulti perché... Tanto non abbiamo potuto fare niente comunque Ragazzi qualcuno Mi serve uno qui Ok Eh... Ma sto cacchio di ninja E ho capito Marco C Mi sono appena risponato Ccccccccc No, Alice FK De nuovo Pippo, se riesci spostala Quanto male fa il piccione però Prendi Matteo prendi Vai Il piccione Il ninja Fanno Senza E togliate il damage Ok Merda Non hanno preso B Ora Ok Non l'hanno preso È nostro, è nostro Vado verso A Ragazzi non so se fare il tank di nuovo io Ma io ti direi di tenere quello sono morto Cazzo Ma che cazzo di danno era scusami Cazzo Sì, ma il mio ninja non fa per niente danno, perché? Ti arrivano tutti i rito, Tanca? Ma anche delle mod personalizzate ci sono, però Sì Sì, hanno le mod, non le mod Sblocchi giocando Sono tipo rune Sono tipo rune Ragonabile al rune, ecco Andiamoci, andiamoci, andiamoci No, ma loro sanno che devono targettare me, hai capito? Sì Dietro, dietro Eh, vedi questa stronza Vado Eh sì, però questa stronza sparisce Tanto Dio Mi li vedo Mi li vedo sparire Morto Aia, targetta me, targetta me, ragazzi Ok Non posso curarvi Eh, non posso far nulla Aia, e niente Proteggiamo Ok Sono comunque in vantaggio loro, eh Eh sì Ragazzi, sto qua mantenendo il punto Sì, capito Capito, che male fai, signorina... Piccione Eh sì Cioè, che cacchio Ma che è un platforming pure, che è sta cosa? Eh, c'è alcune sezioni parkour, sì Quanti missili Quanti missili, oh Ma tutta la vita Ragazzi, al punto Guardate Ragazzi, al punto Per favore Dov'è? Ce l'ho due Arriva, 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 arriva Sono morto No Sei vivo, sei vivo, sei vivo Cazzo Da loro il punto Siete... B E C State su questo Io... Anzi no No, non posso Mi targettano, ragazzi Aia Eh Mamma mia Eh, io non posso tenerle Sono morto Però da solo non posso tenerlo, eh Sono morto, sono morto Proviamo la piccione Ah, siamo più o meno lì, eh Che healing, che si Eh, provo a prendere un altro... un altro tank Merda Vado a prendere A Eh, vado su B Vado su A Eh, sì, vado su A Vado su A Ok, bordo No, vai su B, Alice Vado su B, vado su B Ci sono, ci sono, ci sono Aia, aia Arriva Marco Staci No, facciamo un danno imbarazzante, ragazzi Col piccione, eh Sì Sono su B, sono su B Marco Mamma mia Cazzo, come sei morto Ho preso B Ho preso B Alice corri qua, se riesci Arrivo Sono un tank, eh Ah Pensavo fossi healer Ma abbiamo più healer, ragazzi No, non abbiamo più healer No, perché volevo provare a fare un tank Vendo io, vendo io Ma tanto, perché io non induro niente? Eh, lo so Però No, la ultime Madonna, non ho mai affatto Tutte e tre Vado a B Vai, vado con la tutta sinistra Riprendo healer Ma tanto mi targetta No, no, stai col tank Perché dovete andare tutte e due a C Temat Ok Prendo Eh, cosa faccio? Prendo Eh, vai Vado su C DPS, se riesci Sono già, eh Anzi, vado su B Cioè, sei tu che curi un po' in realtà Cazzo, ce l'ho tutti qua, eh Mamma mia Ah, da Ok, nessuno mi si è inculato, vado, da Nostro Perfetto, il nostro anche l'altro, mi sa Sono morto Così il gioco di gioco No, 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 sei morto, non sei morto Sì, sì, lo sono Arrivano preso B Arrivano preso B E arrivo L'importante è non dagli altri due Che casino, eh Perché troia Ok, qui ci sono, ci sono Sono subito, sono subito Prendendo B Ok Oh, ottimo Ancora prenderà Vado da Scusate, lo lascio Eh, te l'ho matto io GG, vado, vado Vado, vado, vado C'è il leader che ti insegue, dato attento Sì, sì, lo so Sto arrivando Ho qua Ho l'ulti tra il 10% Vado, come fa a farmi così male? Ok C'è nostro Manca pochissimo, ragazzi Questo mi fa troppo male, comunque Madonna raptor lì Cosa? 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 Felice? Ah no, la donna La donna Mi ha fatto ridere quello che ho capito Mi fa troppo male la donna raptor, ho detto Oddio, mi fa troppo ridere Ma è bellissimo La donna La donna La donna raptor Non ho detto niente di male Però mi è davidato subito, eh Come? Sì Ma io pensavo che voi stessi reagendo così per la fine della partita No, no No, 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 no È come porco pagliacce questo Oddio, no, come porco disossato questo Non è il porco disossato, sì Oddio Io mi sa che non ce la facciamo a fare un'altra, quindi magari No No, no, no No, no, no No, 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 no Stomake, male Stomake, male Giuseppe la donna Giuseppe la raptor Tra l'altro Giuseppe se n'è andato Ragazzi Voglio chiamare Giuseppe Perché se n'è andato Ma perché Telegram? Non voglio chiamarlo con Telegram Voglio chiamarlo Cellulare Eccolo qua Ragazzi chiamiamo Giuseppe la marca Oh no Si parte la chiamano che Giuseppe Ma la chat si stava chiedendo Con la chat intendo io Che fine hai fatto? La live non è scalabile Si adesso è scalabile brutto coglione Adesso è scalabile coglione Dalle dieci e mezzo è scalabile E tu non ci sei Ti avete mettato due volte così a vuoto Non ho gli alert Non ho gli alert Però Telegram per fare il parassita lo usi Non sapete cosa scrivere Il parassita di duro La chat lo sa La chat lo sa cosa scrivere No Assolutamente no Verrà termattato Chiunque lo farà Ragazzi abbiamo il tasto pronto Ignazio è la marca No Due pippo Bravo pippo Vip giuse poi Vip giuse Guarda adesso faccio Guarda adesso faccio 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 Guarda Fermi 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 Non ascoltatelo ragazzi No mi fa aggiungere un vip Non si fa Perché mi fa aggiungere un vip Perché non lo so La marca è l'unico vero vip dei corgi Diffidati Allora Dopo aver sospeso la marca Per insurrezione Per insurrezione Sì Giuse l'ambanna Ora ti riconosco Questo è un mutilamento ragazzi Questo voleva fare il colpo di stato Ma che cazzo Ma secondo te Ma secondo te Eh Non lo so Free Juslam Cosa Je suis La marca Je suis Pray for Juslam Guardalo Free Juslam Lo coso giusto Perché è la marca Isar Su quella Su quella Su quella versione lì C'è il mio copyright Ragazzi Allora La marca Hai ragione Eh sì Ragazzi Grazie mille Per essere passati Noi Allora Raidiamo Zeb C'è Zeb89 E là Mi sento come Mandel Assolutamente sì Allora raidiamo Bo CSGOFRLS Io vorrei raidare il Il canale delle papere Solo che mi dispiace Non raidare crosta Il canale che trasmette le papere Il canale che trasmette solo papere Sì Ma è bellissimo Ragazzi facciamo sta cazzata Dai Dai Ragazzi andiamo tutti quanti dalle papere E scriviamo Onk Ragazzi Sì anch'io perché voglio vedere Dash Fatemi chiudere il gioco Voglio vedere il ride In diretta Anch'io Onk Mi raccomando Signore Ragazzi per essere passati Noi ci vediamo Domani Dalle 22 Alle 23 E mi raccomando ragazzi Non fate le teste di cazzo Con le papere Anzi siate amichevoli Con le papere Ok Ricordate di dargli il pane Date il pane Ma non troppo Perché sennò esplodono Come i piccioni Con il riso Esattamente come i piccioni Con il riso Ricordate ragazzi Il pane Oh no Mi si è aperto Ok Ciao amici Ciao Ciao ciao